Quindi buonasera a tutti e tutte, siamo la Ternasinistrosa, siamo una lista di rappresentanza del Politecnico che si batte per portare nell'università equità ed inclusione. Oltre a fare attività di rappresentanza facciamo anche attività culturali come questo ciclo di conferenze che è un esempio. E questo ciclo di conferenze appunto si chiama Fuck Humans perché ha l'obiettivo di capire l'uomo appunto del XXI secolo. Infatti l'avanzamento tecnologico è diventato quasi un dogma nelle nostre vite, ci viene imposto e soprattutto in queste aule, in l'aula stessa del Politecnico che sono proprio il vortice di questo sapere scientifico che però spesso viene indettato dall'alto e non facciamo in tempo a fermarci e capire dove stiamo andando, come ci stiamo arrivando. Quindi attraverso questi quattro incontri vogliamo appunto avere comunque una visione d'insieme più ampia. Ovviamente sono quattro incontri e possono approntare il tema solo lateralmente, non possono prenderlo ben diretto, però vogliono essere comunque un incentivo per tutte le persone che parteciperanno a farsi delle domande e a riflettere sui temi che stiamo portando. Ora lascio la parola a Francesco. Ok, salve a tutti. Allora, diciamo che l'obiettivo di questa prima conferenza è parlare in merito dell'intelligenza artificiale, che è un termine che permea le nostre vite, lo sentiamo molto spesso, ma effettivamente non abbiamo una chiara idea di cosa, diciamo molte persone in realtà, non hanno una chiara idea di cosa sia l'intelligenza artificiale, che cosa significhi realmente questo termine, che rilevanza abbia nelle nostre vite realmente, quali siano le implicazioni morali e pratiche dell'utilizzo di un'intelligenza artificiale, diciamo nella vita di tutti i giorni. A queste e molte altre domande vogliamo porre una risposta che, seppur generale, sia in grado di chiarire le nostre idee sull'argomento. E pertanto abbiamo chiamato la professoressa Viola Schiaffonati, che è specializzata in questi argomenti, soprattutto in Computer Ethics, e fa parte del Dipartimento Ingegneria Elettronica, dell'Ingegneria Informazione e Bioingegneria presso il Politecnico di Milano. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione, diciamo, nella conferenza odierna e do la parola appunto alla professoressa. Grazie. 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 Allora. Ok, se mi metto qua a seduta. Ok, dai, così se ci sono le domande. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di avermi invitato, sono molto contenta. Diciamo, sono proprio contenta perché così, anche se siamo in pochi stasera, è significativo che, diciamo, un'iniziativa organizzata dagli studenti nell'università, per l'università e con, così, gli studenti che dovrebbero tornare a vivere l'università come luogo appunto di vita, più che così di semplice trasmissione del sapere, secondo me è fondamentale, fondamentale di questi tempi. E poi sono particolarmente contenta perché appunto voi dite, cioè, vi battete per l'equità e l'inclusione e in realtà l'equità e l'inclusione sono proprio due dei temi che vengono immediatamente, diciamo, in luce quando si parla di intelligenza artificiale e quando si, così, riflette su quale può essere l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite, pratiche concrete, individuali, sociali e politiche. Perché stasera io voglio concentrarmi sul tema, su uno dei possibili temi della politica dell'intelligenza artificiale. Ovviamente quando si parla di etica dell'intelligenza artificiale l'argomento è vastissimo. Scusate, mi tolgo un po' la mascherina, tanto sono lontana. Ci sono mille cose che potremmo dire. Adesso non per citare le cose che faccio io ma insomma ho recentemente scritto un libro con tanti colleghi su appunto l'etica dell'intelligenza artificiale e abbiamo raccolto così contributi che vanno appunto dalle decisioni che hanno impatto sulle nostre vite che vengono presi da algoritmi di machine learning, al tema della sostenibilità e di quanto veramente oggi, come dire, siamo abituati a immaginare l'intelligenza artificiale come qualcosa di appunto etereo nel cloud che ci fa risparmiare risorse e energie e quanto invece sia, come dire, un'attività ad altissimo consumo di energie innanzitutto, come dire, di risorse naturali e poi di risorse sociali. Quindi ci sono tantissime cose. Se vi va bene la mia proposta è questa. Io vorrei parlarvi brevemente di quello che penso sia un tema caldissimo oggi parlando, diciamo, sotto l'etichetta etica dell'intelligenza artificiale ma poi veramente vorrei che fosse una discussione e che quindi così ci fosse anche un po' di dibattito anche da non esperti su temi non esperti su questi temi. Allora, la prima cosa che dico è che l'attenzione si è spostata tantissimo dall'idea che, diciamo, le macchine potessero essere intelligenti come noi o potessero addirittura essere più intelligenti di noi ad altre questioni. E perché dico questo? Perché l'intelligenza artificiale è una disciplina relativamente nuova non so se, insomma, molti lo sanno ma non tutti, ha proprio una data di nascito ufficiale che è il 1956 in cui a un certo punto un gruppo di ricercatori che per lo più appunto venivano dalla matematica e erano negli Stati Uniti, ha deciso di incontrarsi e di dire ok, vediamo se effettivamente le attività intellettuali degli esseri umani possono essere descritte in una maniera così precisa, rappresentate in una maniera così precisa da far sì che una macchina le possa compiere. E c'era grandissimo ottimismo, era comunque, come dire, anche la fine della Seconda Guerra Mondiale sul fatto che queste macchine potessero esistere, potessero addirittura, secondo loro, in dieci anni fare più o meno tutto quello che l'intelligenza umana faceva. E non a caso, ad esempio, i primi programmi di intelligenza artificiale sono stati programmi per i giochi, scacchi, cioè prima dama e poi scacchi, e programmi per dimostrare in automatico i teoremi. Cioè, delle attività che, come dire, sono delle microattività rispetto allo scibile umano, però che rappresentano in qualche modo l'attività intellettuale per eccellenza, la matematica, la dimostrazione di teoremi, il gioco degli scacchi, e che si sono rivelate, ovviamente non è stato semplice, ma molto più semplici, se vogliamo, di attività che invece noi diamo per scontate come io mi muovo in questo spazio, evito gli ostacoli, vi guardo, nel frattempo sento se passa qualcuno, sono in grado di controllare quello che sta avvenendo, interagisco con voi, capisco quello che mi dite. Tutte cose che per noi esseri umani sono scontate, ma che invece poi sono veramente difficili quando vogliamo avere una macchina che le faccia. Quindi quest'idea della partire dal generale e poi invece man mano concentrarsi sulle cose più specifiche, secondo me è stato un primo percorso che ha caratterizzato veramente tanto l'intelligenza artificiale, anche oggi, perché oggi quando diciamo ma esiste quella che viene chiamata General Artificial Intelligence, cioè esistono programmi che riescono a risolvere problemi in generale, la risposta è no. Esistono tanti strumenti, tanti programmi che lavorano benissimo su dei problemi specifici, molto meglio degli esseri umani, ma l'idea dell'intelligenza generale non c'è. Però la cosa che volevo dirvi e che secondo me è importante è che appunto dobbiamo uscire dall'idea che così da quella rappresentazione un po' old style dell'intelligenza artificiale, per cui sì appunto sono cervelli artificiali, sono modi per ricreare la nostra intelligenza in programmi o macchine di qualche tipo, perché in realtà noi siamo già circondati da tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale, cioè se noi pensiamo dalla mattina quando ci alziamo, anzi in un certo senso anche quando dormiamo, se abbiamo un Apple Watch, un Fitbit, tutti quegli strumenti che per esempio monitorano il nostro sonno e la mattina quando ci alziamo ci dicono anche ah hai dormito tre ore e quarantacinque minuti, la tua qualità del sonno è stata abbastanza buona, però io ti consiglio di dormire di più perché in effetti tre ore e quarantacinque minuti sono un po' pochini. A tutte o la maggior parte delle attività che noi facciamo in realtà sono delle attività inserite in quello che di solito vengono chiamati sistemi sociotecnici, cioè noi interagiamo con altre persone, interagiamo con gruppi, istituzioni eccetera, ma interagiamo anche con una serie oramai sempre più vasta di strumenti tecnici che sono integrati in vari modi e che mediano oramai tantissime delle nostre attività. Pensate solo al tema dell'educazione e della formazione che fino a due anni fa si faceva più o meno quasi sempre nelle classi fisicamente con le persone e quanto questo è stato drasticamente ripensato. E drasticamente ripensato anche in questo entra l'intelligenza artificiale, perché sapete bene che le grandi aziende tecnologiche in realtà si sono buttate a capofitto in questo tema della formazione e dell'educazione, che è un contesto di una miniera inesauribile per raccogliere dati su tutto, lanciando così l'idea che anche l'educazione può essere personalizzata con la tecnologia e che quindi sarà più inclusiva e funzionerà meglio perché ognuno di noi avrà come dire il tipo di informazioni, il tipo di formazione altamente personale che solo questi strumenti molto sofisticati possono darci. Io credo che veramente qua ci sia da demistificare un sacco di cose, c'è una retorica su questi strumenti che io penso sia una retorica di tipo quello che viene chiamato determinismo tecnologico, cioè come se i problemi fossero risolti perché abbiamo delle tecnologie più o meno potenti. I problemi sono più complessi, le tecnologie sono una parte e noi dobbiamo vedere questi problemi nella complessità. Quindi la prima cosa importante che voglio dire stasera è non possiamo più pensare all'intelligenza artificiale semplicemente come così, la vecchia immagine del cervello elettronico o dei robot di Asimov o come dire queste rappresentazioni in cui abbiamo delle sorte di sostituti di noi esseri umani più intelligenti, più capaci o che magari appunto ci sostituiscono in tutti quei compiti che noi non vogliamo più fare, che ci tolgono così tempo libero, ozio, creatività. Dobbiamo vedere le cose in maniera diversa e nel vedere le cose in maniera diversa è complesso perché le stiamo vivendo adesso, perché adesso stiamo vivendo un momento in cui l'intelligenza artificiale fino a dieci anni fa era una disciplina accademica che veniva fatta nelle università da un ristretto numero di persone, di ricercatori e così aveva un impatto tutto sommato piuttosto limitato. Oggi invece siamo in un mondo in cui le università fanno fatica a fare, cioè la fanno, fanno altissima qualità di ricerca. Mi fa piacere dire che il Politecnico di Milano è stato il primo Ateneo in Italia che ha avuto la cattedra di intelligenza artificiale di Marco Somalvico che è stato il mio maestro e che appunto aveva studiato a Stanford con alcuni di quelli che hanno fondato l'intelligenza artificiale e poi è venuto in Italia, è tornato in Italia e così, grazie poi al supporto di molti altri, ha aperto questa prima cattedra. Però dobbiamo essere realisti oggi, gran parte della ricerca in intelligenza artificiale che richiede, come dire, attrezzature sempre più complesse e quantità di dati sempre più enormi, la fanno le grandi aziende tecnologiche, anche la ricerca accademica. E spesso è difficile per l'università competere a livello delle attrezzature e della raccolta dati con queste grandi aziende tecnologiche. Quindi questo è il primo messaggio, secondo me è un messaggio molto importante. Il secondo messaggio importante è, prima avete detto, noi non dobbiamo avere, come dire, stiamo qua in un luogo in cui si fa sviluppo tecnologico, si fa innovazione, in cui parte della ricerca in intelligenza artificiale, anche in Italia e in Europa viene fatta, però dobbiamo avere uno sguardo critico. E su questo mi sento di dirvelo, io sono appunto una filosofa della scienza che lavora in un dipartimento di ingegneria, che voi siete fortunati perché state in un Ateneo in Italia in cui, come dire, piano piano vi vengono offerti strumenti per riflettere criticamente anche nel vostro percorso di studi. Cioè, ci sono, io faccio parte di questa unità di studi che si chiama Meta e mi fa piacere citarla, che è appunto un'unità di studi, diciamo, di scienze sociali e filosofia su scienza e tecnologia e piano piano stiamo espandendo, diciamo, i corsi che vengono offerti più o meno a quasi a tutti le laure magistrali in cui cerchiamo di riflettere criticamente su questi temi. Criticamente significa intanto avere anche un'altra prospettiva, cioè non avere solo la prospettiva della scienza e della tecnologia, ma avere anche la prospettiva della filosofia, della sociologia, dell'etica e quindi, come dire, ovvio che nessuno delle persone che studia il Politecnico di Milano diventerà un esperto di etica, ma diventerà consapevole che ci sono questi problemi. Terzo punto, e poi dopo vorrei iniziare un dialogo con voi, perché ho detto è un tema politico e secondo me è politico nel senso del termine, cioè politico che ci porta a ripensare anche, come dire, al nostro vivere nella società, ai modi in cui viviamo e agli strumenti che utilizziamo e alle scelte che facciamo. Allora è un tema politico perché secondo me è una delle grandi sfide con cui dobbiamo avere a che fare come cittadini, non solo, ora io immagino che, come dire, voi veniate da percorsi diversi, qualcuno studierà ingegneria, qualcuno design, qualcuno architettura, quindi prima che persone Politecniche, noi dobbiamo pensarci come cittadini e come cittadini io credo abbiamo il dovere di non far sì che le scelte di un ristretto numero di persone ricadano sulla collettività. Questo è un dovere, come dire, faticosissimo, perché significa che prima di tutto noi abbiamo un minimo dovere di conoscenza. Cosa intendo per dovere di conoscenza? Intendo che, come dire, cerchiamo di sapere quello che stiamo usando e, diciamo, gli strumenti che oramai creano il nostro panorama, creano il contesto in cui viviamo. È ovvio che non tutti di noi hanno le competenze tecniche, io per prima, non tutti di noi hanno le competenze tecniche per andare nel dettaglio della conoscenza, eccetera. Però, secondo me, ognuno di noi deve avere veramente, come dire, un'attitudine alla conoscenza, magari minima, magari di base, che consenta di andare un po' al di là di quella che è, diciamo, la storia predominante che ci viene, soprattutto nel dibattito pubblico, propinata, uso questo termine, che è una storia in cui le tecnologie risolvono tutti i problemi, estremo 1, oppure le tecnologie sono causa di tutti i problemi, estremo 2, e che, secondo me, sono veramente, cioè, apparentemente molto diverse, ma sono un po' la stessa, diciamo, le facce diverse di una stessa medaglia. Cioè, di nuovo, l'idea che le tecnologie determinino in un senso forte qualcosa, o nel positivo o nel negativo. Io penso che siamo noi, esseri umani, che determiniamo, poi, certamente, in un contesto in cui le tecnologie giocano un ruolo sempre più importante. Quindi, questo, secondo me, è la prima cosa. E questo è un dovere di cittadinanza attiva. Cioè, io credo anche per le persone più giovani, che studiano a scuola e che fanno educazione civica, e in cui, in quest'educazione civica, forse, come dire, ci deve essere un po' anche di questa consapevolezza digitale, di questi strumenti, che oramai, però, sono gli strumenti con cui viviamo la nostra vita politica, anche politica intesa in senso lato, non semplicemente che magari fra un po' voteremo e faremo le votazioni elettroniche anche per le elezioni, ma cittadinanza politica significa, intesa in senso lato, significa tante delle cose che noi facciamo nel nostro vivere comune. L'altro tema importante è, bene, ok, è vero anche che c'è un tema di responsabilità, no? Prima, quando Francesco introduceva e diceva gli aspetti morali, anche dell'intelligenza artificiale, la questione delle scelte, la questione di delegare anche delle scelte alle macchine. Allora, in tutto questo è vero, ci sono tante questioni di responsabilità, e responsabilità intendo, dalla responsabilità legale, alla responsabilità morale, tante sfumature, però c'è anche il tema di cercare, così, di anticipare un po' questa responsabilità. Cosa intendo per anticipare la responsabilità? Intendo che noi possiamo pensare di progettare fin dall'inizio certe tecnologie, avendo in mente che cosa vogliamo fare, non semplicemente, come dire, avendo un atteggiamento passivo per cui lo dice, vabbè, ma io mi occupo solo della progettazione e poi dopo, come sarà usata, beh, dipenderà. Non è così. Questo è, secondo me, un pensiero comune che dobbiamo ribaltare. Non è così, perché il modo in cui una tecnologia viene progettata determina poi anche l'uso che ne viene fatta, determina anche l'impatto che ne viene fatta. E quindi non vi sto dicendo che tutti i problemi possano essere risolti progettando bene una tecnologia, però vi sto dicendo che progettare bene una tecnologia può almeno contribuire a risolverne alcuni. E allora questo discorso, secondo me, è un discorso che ci tocca tutti come persone che stanno in un Politecnico, in cui, come dire, il tema del progetto è declinato in molti modi diversi, però è il tema, come dire, che accomuna anche, magari, delle discipline così diverse, come apparentemente possono essere il design da un lato e l'ingegneria dall'altro. Allora, questo, secondo me, è estremamente importante. Cominciare a pensare, ad anticipare, a chiamare in causa questi problemi non quando sorgono, ma prima che sorgano. Prima che sorgano significa, secondo me, avere anche grande immaginazione e quindi, di nuovo, cercare anche proprio nella formazione delle persone Politecniche di coltivare tutta una serie di qualità, capacità, che spesso magari vengono viste come, beh, sì, sono qualcosa che uno ha o uno non ha, oppure sono totalmente soggettive, non possono essere insegnate. Non è vero, anche questo. Sono qualità che anche, invece, possono essere insegnate, possono essere coltivate. E quindi, il terzo messaggio è, secondo me, abbiamo bisogno di grande capacità immaginativa proprio per progettare queste tecnologie nei vari aspetti e i contesti in cui queste tecnologie stanno. Pensate, appunto, gli architetti, gli edifici, i luoghi, le città, gli spazi che vengono completamente ripensati, i designer, gli ingegneri di varia natura. Cominciare ad anticipare questi problemi già nella fase di progettazione. È tutto risolto? No, non è tutto risolto. Secondo me c'è un quarto elemento, poi chiudo e apriamo il dibattito. Il quarto elemento è, noi dobbiamo farci sempre delle domande e poi questo quarto elemento ci fa ripartire, diciamo, da quella idea del fatto che dobbiamo essere cittadini attivi, che è una questione politica. E le domande sono, benissimo, adesso vi faccio questo esempio. Oggi si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale per il bene. Ci sono queste etichette, I for good, beneficial, artificial intelligence. Cioè, tutte queste etichette che ci dicono, beh, ma che bello, finalmente abbiamo delle tecnologie così potenti e così pervasive che risolvono tanti dei nostri problemi e che addirittura riescono finalmente a darci la soluzione a quello che non abbiamo mai risolto. Vi faccio un esempio rispetto, per esempio, alla formazione delle persone all'educazione. Caspita, nelle scuole c'è un problema grandissimo del fatto che ci sono tanti studenti che sono in difficoltà e perché magari sono in difficoltà perché hanno, così, dei problemi a livello di apprendimento, sono in difficoltà perché magari non hanno le stesse, non hanno avuto le stesse possibilità di altri, sono in difficoltà perché magari invece sono troppo bravi e quindi si annoiano rispetto a quello che viene detto in una classe. e spesso in questo panorama in cui la scuola è in difficoltà, c'è poco da dire, c'è poco da fare, la soluzione che viene proposta è, bene, ma perché appunto l'intelligenza artificiale non ci viene in aiuto, in soccorso, promuovendo appunto tecnologie per l'apprendimento che siano altamente personalizzabili, quindi quello bravo avrà magari così proposti degli esercizi che lo sfidano maggiormente, quello che è un po' più in difficoltà, la difficoltà verrà rilevata dal programma stesso e quindi i contenuti verranno adattati a questa difficoltà, oppure appunto chi si annoia avrà dei contenuti che magari sono più divertenti e quindi supererà la noia. Sulla carta tutto bellissimo, io penso che questo sia veramente il mondo distopico nel quale non voglio vivere, perché in questo mondo distopico non sono più io l'attore delle mie decisioni e non sto dicendo che va rifiutata in tutto la tecnologia, ma sto dicendo che penso che dobbiamo farci le domande quando la storia ci viene presentata in questo modo e le domande sono ma chi decide che cosa viene fatto, come viene fatto, chi decide quali sono i valori che una tecnologia deve implementare, chi decide che deve essere inclusiva rispetto a certe categorie e magari non tanto inclusiva rispetto ad altre, chi decide chi ha, come dire, accesso a queste tecnologie e chi invece non ha accesso. Allora, tutte queste domande sono domande urgenti che dobbiamo farci tutti, di cui dobbiamo rendere, come dire, anche conto così alla società in cui viviamo, sono domande che non possiamo rimandare e quello che vi sto dicendo è non dobbiamo rispondere no o sì in assoluto, dobbiamo vedere, dobbiamo studiare, dobbiamo analizzare, dobbiamo capire e infatti l'ultimo messaggio che vi do è l'etica è bella, è un, come dire, una parte interessante della filosofia, però l'etica è difficile, è un processo piuttosto che un insieme di regole e questo io lo dico sempre ai miei studenti, può sembrare, questo, come dire, è spiazzante perché uno dice, beh, ma quindi allora non c'è un modo per risolvere questo problema, non c'è una regola, non c'è una linea guida, non c'è un libro di istruzioni, no, non c'è, infatti, è un processo e io personalmente penso che sia un processo anche molto contestuale, cioè dipende dallo specifico momento, dallo specifico contesto, però è, come dire, un processo a cui tutti siamo chiamati e questo è così qualcosa a cui, diciamo, non dobbiamo e non possiamo rinunciare e siamo chiamati perché altrimenti viviamo già in un mondo in cui le decisioni, che diventano anche decisioni politiche, sono prese da gruppi sempre più ristretti di persone, pensate il potere che hanno alcune società tecnologiche nel mondo, che è un potere ovviamente tecnologico, ma pensate quanto potere politico abbiano anche queste società e forse la sfida a cui dobbiamo rispondere è, ma è possibile vivere in un mondo in cui questi processi, almeno in linea di principio, sono frutto di un percorso democratico, un percorso democratico in cui tutto ciò è oggetto di un dibattito pubblico, tutto ciò è oggetto di domande, tutto ciò è oggetto di scelte, ma scelte, come dire, consapevoli, aperte, scelte su cui si può dissentire, ma che sono delle scelte, delle scelte vere, non qualcosa che è semplicemente calato dall'alto, che in molti casi spesso non viene neanche, come dire, presentato come una scelta, ma semplicemente come qualcosa di dato. Quindi vorrei adesso veramente, se siete d'accordo, poi non ho dato nessuna definizione di intelligenza artificiale, magari poi viene fuori nelle domande, non l'ho data perché è difficile, però dopo magari nelle domande se volete posso farvi qualche proposta di definizione. Vorrei veramente che così ci fosse un po' di dibattito su questo, le vostre considerazioni e le vostre domande, altrimenti io posso andare avanti ovviamente per tanto tempo, però davvero non siate timidi. Allora c'è lui, ma riuscite la telecamera così... Ok, e poi dopo ce l'avete voi il microfono? Sì, sì, ora la dobbiamo. Non c'è questo qua che sia meno da casa, vedono meglio. Solo che lì è scomparso tutto. No, sì, sì, la prevedevo. Ah, ok. Sì, no, più che altro è comodo deresponsabilizzarsi in quel modo. Cioè dire sono le tecnologie che l'hanno fatto, io non centro niente, sono le tecnologie che hanno scelto e viceversa lamentarsi. Cioè quella roba è brutta, io la riconosco come brutta, non mi piace perché umanamente non la farei, cioè se fossi io fisicamente a doverla fare non la farei, me ne lamento. È appunto un po' un problema perché ci toglie dall'essere attivi in quello che è la società. E quindi è comodo per questo perché io tranquillamente vivo la mia vita con le fette di prosciutto sopra gli occhi, non mi pongo dei problemi e quindi secondo me difficilmente ci sarà un cambiamento riguardo a ciò. Saranno pochi quelli che si porranno effettivamente queste domande e secondo me si tenderà ad andare più verso un... è bella la tecnologia perché soprattutto l'esempio che ha fatto quello dell'apprendimento personalizzato è, se non ho sbaglio, lo stesso concetto delle pubblicità o dei feed che troviamo sui social. Quindi ci tende a ingabbiarci all'interno di quello che è quella realtà e a tenerci sempre legati a quel tipo di realtà e appunto invece che magari spingere quello che è l'ultimo della classe a migliorare potrebbe legarlo a quello che è il suo status. Cioè lasciandogli sempre esercizi dello stesso tipo e poi magari c'è la possibilità di migliorarli, quegli esercizi, renderli un po' più difficili, lo rende rilegato a quello che è la sua realtà senza dargli possibilità di scalare. Però io invece, lo capisco, però io sono ottimista nonostante tutto e sono ottimista perché per esempio ho toccato con mano quanto io insegno, cioè tra i corsi che insegno io insegno Computeretics che è principalmente per gli studenti della Laura Magistrale in Ingegneria Informatica. Allora, non so, lo insegnerò dal 2016, dal 2015, ho toccato con mano quanto gli studenti che studiano nella Laura Magistrale in Ingegneria Informatica abbiano veramente cambiato visione in generale. Allora voi dite va bene, ok, è un corso e quindi è un corso a scelta, vengono solo già quelli che sono interessati. Sì è vero, però da che erano 40 persone, quest'anno ce ne erano 190 iscritte, quindi va bene, sì, il Politecnico ha più studenti, ma vi assicuro che l'attitudine degli studenti e delle persone che viene è radicalmente cambiata. Io mi ricordo che il sogno dei miei studenti era di andare a lavorare a Facebook, a Google e così in aziende di questo tipo. Studiavano, come dire, anche quelli che venivano a fare il corso di Computer Ethics, studiavano tanto e volevano i voti alti, volevano il 110 lode, volevano laurearsi presto per andare a lavorare in quelle aziende. Io vi assicuro che oggi, o forse perché magari hanno un po' più vergogna, ma perché è cambiato il contesto anche. Non l'ho più sentito questo discorso, sento persone, miei studenti anche di ingegneria informatica che non usano i social. L'altro giorno mio studente mi raccontava che lui non vuole neanche usare l'email, perché, come dire, non vuole, diciamo, questo è un caso radicale, ma non vuole essere schiavo di questo continuo, essere disponibile e avere una risposta. Quindi è vero, è difficile, è comodo de-responsabilizzarsi, anche delegare la responsabilità addirittura alle macchine diventa comodo, però io invece vedo un nascente spirito critico su questi temi. E quindi forse, diciamo, in questa prospettiva sono ottimista, anche perché fa una bella differenza. è vero che il meccanismo è lo stesso quando mi vengono fuori le raccomandazioni personalizzate sui miei acquisti, ma accidenti, farà una bella differenza in quel contesto a un contesto in cui sono a scuola e, diciamo, sto a scuola per imparare sostanzialmente a vivere, perché io penso che la scuola debba fare questo, oltre che a insegnarci così un po' di nozioni. E quindi dobbiamo anche essere consapevoli delle differenze di contesto e che non possiamo accettare quello che magari ci va bene in un contesto commerciale, non possiamo accettarlo in un contesto educativo, perché sono ambiti diversi. Allora, sì, lo scambio umano secondo me è fondamentale, ma anche fondamentale, vi faccio un altro esempio che mi piace tantissimo, perché dà la misura delle sfumature che costituiscono e delle, come dire, dettagli, che però sono, come dire, le cose anche importanti delle vite umane. C'è un esempio bellissimo che ha fatto una studiosa della London School of Economics, che raccontava in una conferenza e diceva, vi racconto il caso di questa giovane afroamericana che a un certo punto è andata a fare un colloquio di lavoro e durante il colloquio di lavoro con la persona, con quello che faceva i colloqui di lavoro per un'azienda, parlando è venuto fuori e lei ha dichiarato che era stata arrestata e che a un certo punto era stata arrestata, quindi che la sua fedina penale non era pulita ed era stata arrestata in particolare nel contesto delle proteste di Black Lives Matter, ok? Aveva raccontato, aveva discusso in questo contesto di questo e anzi la persona che la intervistava per il lavoro, appunto lo scambio, le relazioni umane, aveva molto apprezzato, come dire, che avessero parlato di quello e che, come dire, fosse venuto fuori anche questo contesto di una persona che, diciamo, era un'attivista politica, aveva fatto una serie di scelte. Poi questa giovane ragazza era andata a casa e a un certo punto ha ricevuto una telefonata da parte dell'azienda che doveva, ecco, scusate, e l'intervistatore umano le aveva detto, mi sei molto piaciuta, io penso che tu vada bene per questo lavoro. Lei è tornata a casa tutta contenta, a un certo punto ha ricevuto una telefonata dallo stesso intervistatore che le ha detto, purtroppo non possiamo assumerti perché noi facciamo, usiamo alla fine degli algoritmi di intelligenza artificiale per fare lo screening delle persone, dei curricula e delle persone che fanno, come dire, che applicano per questi lavori e la tua fedina penale non è, diciamo, pulita, non è immacolata e noi non possiamo assumerti perché questo è assolutamente, come dire, un elemento discriminante rispetto agli strumenti che noi utilizziamo. Allora, secondo me questo è un esempio bellissimo di, appunto, ingiustizia, esclusione, mancanza di equità, ma è un esempio bellissimo del fatto di, la differenza sostanziale di contesto e del fatto che, appunto, un essere umano è in grado di valutare quello specifico contesto e in cui, come dire, l'informazione su perché era stata arrestata, in che situazione, sotto quali condizioni, aveva addirittura, come dire, diciamo, era stata interpretata, se vogliamo, positivamente, cosa che le macchine non possono fare perché ragionano in maniera quantitativa utilizzando, come dire, dei numeri, delle rappresentazioni di tipo quantitativo e lasciando da parte tutte quelle nuance, quelle sfumature che, invece, molte volte sono l'essenza della nostra vita di esseri umani. Vi consiglio un libro molto bello, cioè, bello, non è il miglior romanzo di questo mondo, però è stato scritto da Dave Eggers, ve lo scrivo, no, non si può usare la lavagna che se no si sporca, vabbè, Dave, come Dave Eggers, E-G-G-E-R-S ed è quello che ha scritto qualche anno fa The Circle, che, vabbè, c'è stato anche il film, eccetera. Adesso ha scritto un nuovo libro che è stato pubblicato alla fine del 2021 e si chiama The Avery, The Avery, E-V-E-R-Y con la Y e è un libro, secondo me, veramente efficace praticamente, anche se non avete letto The Circle, lo potete leggere non è necessario, però è un libro veramente efficace nel descrivere, appunto, la mancanza di sfumature, di nuance, di ragionamento qualitativo che molti degli strumenti che oggi ci circondano e che noi usiamo quotidianamente non hanno. Ed è veramente, secondo me, l'esempio di come delle volte la letteratura sa essere più potente di qualsiasi discorso, conferenza, discussione accademiche nonne. perché veramente, cioè, poi lui ha un'inventiva pazzesca quindi si inventa un sacco di app veramente, diciamo, tra l'inquietante e il fantastico però in cui davvero alla fine si tocca con mano quanto questo discorso del contesto, delle sfumature, sia importante. Mi inserisco un attimo per dire anche alle persone da casa che se vogliono possono alzare la mano così sappiamo quando farle intervenire. Da casa, aprite pure il microfono se volete intervenire. Ok, perfetto, grazie. No, salve, piacere. Vorrei prendere, ad esempio, la recente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per chiedere cosa ne pensa... Un attimo, per favore, che si sente piano. Ok, perfetto. No, volevo prendere, ad esempio, l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per chiedere cosa ne pensa del possesso della tecnologia che mi passa al termine. Perché nell'immaginario molto generale di cui parlavo di poco fa non è una delle domande primarie, almeno a quanto possa sentire io però trovo anche interessante sapere quale potrebbe o dovrebbe essere il controllo della tecnologia perché sempre nel caso di Twitter, ma potrebbe essere anche un muro non troppo remoto e anche un muro non troppo remoto. Le intelligenze artificiali hanno ruoli rilevanti nella vita di tutti i giorni, anche a livello economico e politico. Per esempio, Twitter e la gestione dello stesso sono stati, diciamo così, uno dei temi di discussione per l'evento di Capitol Hill l'anno scorso. E quindi ha senso che questi strumenti siano in mano a un governo o ai privati o che ci siano ancora altre strutture e come potrebbe essere anche regolato qualcosa che ha un po' l'infarto sulla società come possono essere i sociali o l'intelligenza artificiale. E sono anche interessato ovviamente a come si affronta o si inizia ad affrontare un problema del genere in ambito etico. Come si affronta un problema del genere in ambito etico. Allora, io personalmente penso che debbano essere regolate, assolutamente. Anzi, sono stupefatta del fatto che non abbiamo regolato a sufficienza fino ad adesso, tant'è vero che in contesti tipo gli Stati Uniti in cui di solito quando si parla a regolare... Eh? Esatto, ma appunto anche in contesti tipo gli Stati Uniti in cui quando ogni volta che si parla di regolare qualcosa ti dicono, beh beh perché sei un comunista e quindi vuoi il controllo del governo, io ho sentito veramente tantissimi colleghi adesso statunitensi che dicono ma assolutamente, anzi, beati voi che vivete in Europa e che qualche tentativo di regolare ce lo avete perché non si può andare avanti così. Quindi sì sono per la regolamentazione, ovviamente è estremamente difficile e sono un po' disillusa alle volte sul fatto che l'Europa diciamo almeno sulla carta ce la stia mettendo tutta, sapete che addirittura c'è questa proposta di legge che si chiama Artificial Intelligence Act che vuole regolare l'intelligenza artificiale in Europa ed adesso sta attraversando il vero e proprio processo legislativo, dovrà andare al Parlamento eccetera eccetera. però sono un po' disillusa perché poi in effetti le difficoltà sono molte, non è semplice, però almeno il tentativo c'è. Sono stupefatta dal fatto che se voi siete troppo giovani per ricordarlo ma negli anni 90 è stato fatto una lotta alla Microsoft e al monopolio della Microsoft diciamo che poi ha sostanzialmente portato almeno a qualche miglioramento in termini di monopolio e le stesse cose oggi che viviamo in monopoli ben più ampi rispetto a quello della Microsoft degli anni 90 non vengono portate avanti, forse perché davvero quando si vede l'audizione di Zuckerberg al Senato dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, come dice Alessandro Baricco, si vedono due mondi, è una specie di pezzo di teatro in cui si vedono due mondi così che sostanzialmente non riescono a comunicare tra di loro lui parla un linguaggio, quegli altri parlano un linguaggio completamente diverso e non riescono a venirsi incontro e però devo anche dire che purtroppo e dobbiamo essere consapevoli, non so se avete letto il discorso che Barack Obama ha fatto l'altro giorno all'Università di Stanford come dire cercando, invitato da questo centro per la Human Artificial Intelligence o qualcosa del genere in cui sostanzialmente dice che è importantissimo che gli esseri umani siano in controllo che deve essere human center ed eccetera 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 mi spiace dirlo proprio Barack Obama che ha davvero aperto le porte alle big tech e davvero ha creato sostanzialmente quel passaggio che oramai è noto nei libri di storia dalla Silicon Valley a Washington, da Washington alla Silicon Valley ma chissà perché, diciamo le ragioni possono essere tante però di questo dobbiamo essere consapevoli cioè c'è un problema e non è mai troppo tardi per correre i pali qualche tipo di regolamentazione è necessaria ed è stupefacente che fino adesso non ci sia stata poi nello specifico se mi dite Elon Musk che compra Twitter eccetera io forse non le posso dire queste cose qua ma penso che lì ci sia proprio un problema come dire della persona che poi diventa anche pericolosa perché però insomma sono persone cioè o Bezos da un altro lato cioè sono persone che come dire così hanno un desiderio cioè pensate anche alla stessa corsa allo spazio e a queste cose insomma qualche difficoltà la hanno anche rispetto non so appunto a Bezos cioè Musk e il rapporto col padre c'erano recentemente degli articoli sul fatto che il padre gli ha sempre dato del fallito eccetera insomma dopo che poi questi arrivino comprino e facciano un pochino forse anche su questo dobbiamo interrogarci poi però questo qua è un discorso come dire direi quasi tra lo psichiatrico e lo psicoanalitico per cui fuori dalla mia area di competenza l'etica secondo me serve tanto perché poi come dire l'inquadramento etico serve anche per regolare per normare l'etica e la legge non sono la stessa cosa però spesso come dire si influenzano la vicenda quindi anche quando il discorso etico che non è vincolante dal punto di vista delle leggi però può influenzare poi anche la creazione di leggi la ringrazio prima lei parlava sia di monopoli che di scambi tra Silicon Valley e Washington e mi è venuto in mente il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff quindi lei in un primo momento descrive benissimo in maniera super approfondita quanto grandi siano questi monopoli e poi anche un inquietante scambio tra i quadri della CIA e i quadri di Google per citarne uno quindi dei più grandi monopoli e colossi tecnologici e anche durante tutto questo libro la Zuboff descrive molto bene la capacità elusiva di queste grandi corporation e quindi di non farsi vedere mai nei veri intenti quindi se è vero che poi la legge in un certo senso arriva sempre dopo che c'è stato un fenomeno che deve essere regolato qua abbiamo già tanto come dire ritardo perché già all'altezza degli anni 2000 con la guerra al terrore c'era la consapevolezza del potenziale non si è riusciti minimamente il potenziale di estrarre dati e di informazioni a regolarlo e quindi volevo chiedere poi scusa c'è un altro problema cioè il fatto che tutti noi sappiamo che Google ci spia ma non facciamo quasi niente cioè lo diamo a presso dato e va bene così andiamo avanti quindi volevo chiedere quale potesse essere secondo lei un'attitudine perché chiaramente la soluzione in 3DVD non ce l'abbiamo per cercare di iniziare a contrastare almeno a livello filosofico, etico quello che si vuole quale possa essere un'attitudine per contrastare? Lo so che può sembrare utopistico però io ci credo ed è il motivo per cui sono qua in questo Politecnico secondo me l'attitudine è tanto l'educazione è vero che delle volte poi si dice vabbè ma non è che tutti i problemi vengono risolti con l'educazione però tanti e l'educazione che però deve cominciare addirittura prima perché per esempio quando si parla appunto di privacy ma io un sacco di volte ho anche discussioni con i miei colleghi così in cui tutti mi dicono ma è abusata, è abusata e poi in fondo come quando appunto dopo l'11 settembre negli Stati Uniti venne approvato praticamente dall'oggi al domani il Patriotect che diceva dovete rinunciare alla vostra libertà, parte della vostra privacy personale per combattere la guerra al terrore e tutti essere ok, fantastico secondo me qua il problema è che non si discuta abbastanza del fatto che la privacy non è solo un bene individuale ma è un bene collettivo e se noi vogliamo continuare a vivere in società democratiche poi possiamo anche decidere di no ma se vogliamo continuare a vivere nelle società democratiche non possiamo rinunciare alla privacy perché la privacy è uno dei valori strumentali che poi fa funzionare le società democratiche allora quindi anche questo uno dice vabbè ok, non cambia così tanto beh insomma però se lo si comincia a fare proprio fin dalla scuola ma dalla scuola dell'obbligo come educazione civica un pochino, un pochino cambierà anche perché poi si vede la simmetria di potere e io tante volte ho discusso con i miei studenti che dicono però sono comode tutti i consigli personalizzati è comoda la vita in cui magari appunto come diceva prima lui mi deresponsabilizzo certo però quando poi si vede la simmetria totale per cui in cambio di una cosa enorme io ricevo qualche beneficio forse magari lo ripenso non sto dicendo che lo ripensiamo tutti però un po' sì quindi forse questa chiave dell'educazione della consapevolezza del parlarne può essere una possibile strada faccio ripetermi il microfono perché adesso rispondo da filosofa non lo so cioè non lo so è veramente ma diciamo sono tanti elementi sicuramente come dire la fiducia in una sorta di entusiasmo tecnologico per cui appunto la tecnologia risolve i problemi anzi in più messi insieme anche nella come dire nella fantastica autopresentazione di questi personaggi che ci credono veramente che la tecnologia risolve i problemi e che quindi presentano dicendo cioè se Zuckerberg quando appunto in quell'audizione al Senato dice ma io ho creato Facebook perché veramente penso che le persone così possano stare più vicine che possano interagire che possano le famiglie lontane possano io l'ho creato per migliorare il mondo e quindi diciamo oggi forse siamo un po' più consapevoli qualche anno fa un po' meno ma questo entusiasmo tecnologico continua così a mietere delle vittime io volevo fare una domanda più sul tema della più normativo dell'intelligenza artificiale e ogni tanto a me viene da chiedere mi chiedo se sia giusto e soprattutto sicuro lasciare i decisioni di vitale importanza riguardanti la tecnologia come ad esempio l'intelligenza artificiale in mano a politici che ne sanno meno di me studente universitario di un corso che non è nemmeno ingegneria informatica e quindi alle volte come già succede in altri campi ad esempio quello io sono uno studente di ingegneria elettrica e Enzo I abbiamo un regolatore europeo che definisce le normative per tutto ciò che è elettrico è possibile avere andare arrivare ad un regolatore almeno europeo che gestisca per l'Unione Europea invece del Parlamento tutto ciò che deve essere la normativa sull'intelligenza artificiale e che sia di fatto un ente formato sì anche da persone politiche ma soprattutto da esperti del settore che sanno effettivamente quali sono i rischi che può comportare l'intelligenza artificiale Allora in teoria sì e funziona così per esempio in Europa il meccanismo con cui funziona questo è attraverso i gruppi di esperti io prima avevo fatto tanti esempi sull'intelligenza artificiale nell'educazione perché per esempio faccio parte di questo gruppo di esperti della Commissione Europea attuale che dovrebbe stilare delle linee guida su come l'intelligenza artificiale deve essere usata dai contesti diciamo dell'educazione e in teoria è veramente bello io diciamo penso cioè sono entusiasta in parte di questo lavoro perché gli esperti siamo da tanti campi diversi quindi cerchiamo siamo 25 cerchiamo di mettere insieme tante cose riferiamo direttamente al commissario che si occupa di questa cosa e c'è uno scambio quindi in teoria è così cioè gli esperti servono per come dire informare in maniera esperta tutto poi il processo per adesso sono delle linee guida quindi non sono vincolanti dal punto di vista normativo ma l'idea è che poi in parte alcune cose vadano anche questo artificial intelligence act poi se devo essere sincera nella pratica questa è la mia prima esperienza come dire cioè di solito vivo nell'università in un mondo protetto questa è un po' un'esperienza diversa e devo dire che non è del tutto positiva perché non è del tutto positiva perché ti senti alle volte un po' come esperto leggermente usato rispetto a degli scopi che come dire vengono decisi ad alto livello politico e lo scopo in questo caso è che l'Europa è molto attenta molto più degli Stati Uniti e molto più della Cina se vogliamo come è molto attenta e la commissione attuale ha fatto proprio tutto un discorso come dire politico su come la via europea l'intelligenza artificiale eccetera eccetera però poi l'Europa ha anche tanto paura che le aziende come dire non siano più qui e che anche quelle europee che magari sono aziende più piccole così però non possano essere competitive quindi è veramente una questione di equilibri sottili difficili però almeno dobbiamo riconoscere che c'è il tentativo c'è la volontà e c'è la volontà come dire di coinvolgere esperti poi dei miei colleghi per esempio ma è uscito anche un articolo su un giornale tedesco su un quotidiano tedesco che sono stati coinvolti qualche anno fa in un altro gruppo di esperti che doveva fare queste linee guida sulla trust world e AI quindi ancora più ad alto livello loro si lamentavano e è uscito questo articolo di questo filosofo che diceva ma com'è possibile che dobbiamo fare le linee guida sull'etica dell'intelligenza artificiale siamo 52 persone di cui 30 persone vengono dalle aziende ma vi sembra possibile che questo gruppo di esperti certamente ci saranno anche le aziende eccetera ma vi sembra possibile che un numero così grande di esperti e lì è vero cioè sicuramente ci sono così equilibri però almeno in linea di principio gli esperti vengono cioè come dire c'è proprio l'idea che i gruppi di esperti debbano contribuire in maniera fattiva poi a la preparazione anche del processo legislativo diciamo che la domanda di prima ho un po' risposto già quella che volevo fare io cioè da un punto di vista tecnico quindi accademico oppure comunque di ricerca come effettivamente viene affrontato il tema dell'etica dell'intelligenza artificiale diciamo questa era un po' la mia curiosità perché effettivamente ora ci siamo concentrati un po' sul lato più umano della questione però poi da un punto di vista effettivamente tecnico di tecnicismi oppure di dall'atto pratico come effettivamente poi gli esperti di questo campo affrontano l'argomento e quindi qual è il loro contributo pratico effettivamente per il tema allora questa è una domanda difficile e uno potrebbe sembrare che la mia risposta sia semplicistica cioè io vi dico effettivamente bisogna essere un po' interdisciplinari su questi temi e uno diceva vabbè sì e quindi di nuovo l'interdisciplinarità solite parole che perdono un po' senso ma vi faccio l'esempio io penso che chi si occupa di etica e quindi viene dal mondo della filosofia delle come dire delle discipline cosiddette umane delle delle humanities in inglese debba veramente uscire dai dipartimenti di filosofia e debba stare nei luoghi in cui si fa questa ricerca perché se no altrimenti come dire fa la filosofia da salotto non sto dicendo che tutta la filosofia debba essere così ma se stiamo parlando di certe tecnologie bisogna un po' conoscere vedere come funzionano vedere come vengono fatti come sono anche come avvengono i processi di costruzione di questa conoscenza d'altra parte come prima vi dicevo non è che penso che tutti gli studenti del Politecnico debbano diventare degli esperti di etica però che gli studenti del Politecnico che si occupano del progetto dell'innovazione di aspetti tecnologici devono diventare consapevoli che ci sono questi problemi e quindi poi essere in grado nel loro futuro di lavorare con persone che hanno provenienze diverse che hanno formazioni diverse che parlano linguaggi diversi poi rimango convinta che ognuno debba fare il suo cioè ovviamente come dire ognuno deve fare il suo lo deve fare molto bene con grande dettaglio con grande attenzione anche alle questioni tecniche quando dico questioni tecniche anche quelle della filosofia per esempio sono delle questioni tecniche però è un po' necessario che oltre a questo come dire a fondo ci sia anche poi un po' un orizzonte in cui queste diverse competenze siano in dialogo altrimenti non su questi problemi non ne usciamo e questo guardate che l'hanno capito cioè se vogliamo anche così avere il mito della eccellenza dell'ispirarci a grande alle grandi università tecniche del mondo le grandi università tecniche del mondo l'hanno già capito da tanto tempo e quindi secondo me è interessante che anche qua l'abbiamo capito sicuramente per Primo in Italia anche al Politecnico di Torino un po' di cose si stanno facendo in questa direzione però diciamo oramai qua stiamo consolidando un tipo di impostazione che secondo me è comunque un'impostazione importante cioè è bello riconoscerlo di stare in un posto in cui c'è almeno questa visione grazie allora io avrei due domande diciamo che appunto la prima è proprio da un punto di vista pratico come si fa a creare questa consapevolezza in persone che ne sanno proprio vero cioè appunto mi immagino appunto la signora di 60 anni che mentre su Facebook fa il quiz e dà accesso a tutte le informazioni e manco capisce cosa sta succedendo e no no questo qua è un problema e invece la seconda è che appunto abbiamo parlato di regolamentazione diciamo dal punto di vista legislativo ma effettivamente questo controllo come può essere effettuato cioè io da persone ignoranti non ho idea di quanto cioè proprio materiale fisico computer memoria potenza serva per generare un'intelligenza artificiale potenzialmente anche dannosa tra virgolette se l'ideatore anche molto poco quindi appunto capire come si possono concilare le leggi però poi effettivamente con un controllo magari su una persona che ha una stanzetta e non ci arriveranno mai a controllarlo non so beh però diciamo parto da quest'ultima è vero come dire possiamo fare tutti del male anche con pochi strumenti però per lo meno diciamo il fatto che esistano dei perimetri e che sappiamo che esistono dei perimetri cioè ciò non impedisce di compiere dei crimini no? se vogliamo però quindi rimaniamo ancora liberi di compierli però intanto esistono questi perimetri è anche vero che potenzialmente su certe cose l'impatto come dire è molto più ampio che magari rispetto ad altre e questo secondo me è proprio un compito anche dell'etica che deve riempire questi vuoti delle policies cioè delle policies inteso non in senso politico stretto ma proprio di dire ok va bene quindi è la stessa cioè è lo stesso tipo di crimine concettualmente il caso in cui io entro in una banca con la pistola appunto la pistola al cassiere rubo dei soldi me ne vado con due valigioni di soldi e ho terrorizzato tutti è lo stesso tipo di crimine che faccio quando sono un hacker molto esperto e senza fare del male a nessuno però entro nel sistema della banca rubo i soldi da tanti conti correnti me li metto sul mio conto svizzero allora questa che vi può sembrare come dire una discussione accademica non è una discussione accademica perché quando poi noi cerchiamo di determinare ok ma concettualmente e moralmente sono la stessa cosa allora uno può dire beh sì in parte sì perché viene sottratto del denaro però in parte no perché nel primo caso metto a rischio la vita delle persone fisicamente nel secondo caso no però nel secondo caso magari posso rubare molti 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 più soldi perché non ho il limite delle valigioni fisiche con cui porto via i soldi e poi nel secondo caso che cosa c'è in più c'è l'invisibilità del processo nel primo caso devo entrare nella banca e mi vedono tutti vabbè mi posso mettere il passamontagna però sono più facilmente riconoscibile nel secondo caso addirittura compio qualcosa che magari non viene neppure scoperto immediatamente cioè tutte queste cose che sono questioni filosofiche però secondo me hanno veramente un'importanza determinante per poi dire ok ma allora un crimine è più grave di un altro è lo stesso come lo regolamentiamo anche dal punto di vista come dire delle leggi e invece la prima domanda era non me la ricordo era diciamo come creare consapevolezza in persone che ah ecco ecco secondo me il tema delle persone di una certa età è un tema cioè stiamo sempre sulla fatto della consapevolezza dei giovani e completamente dimentichiamo invece la consapevolezza delle persone di una certa età che invece hanno molta più difficoltà a capire queste cose non so se lo sapete ma avevamo cioè una cosa di cui vado molto fiera è allo scorso novembre abbiamo fatto uno spettacolo al piccolo con Laura Curino che si chiamava Big Data B&B ed era su questi temi non so se nessuno di voi ha avuto modo di vederlo allora secondo me quello era uno spettacolo è vero voi dite a teatro ci vanno pochissime persone quindi non raggiunge la massa ma era uno spettacolo in cui veramente cioè una persona di una certa età lei parlava un linguaggio spiegando benissimo certe cose l'abbiamo fatta insieme cioè abbiamo lavorato praticamente per tre anni con lei su come dire come trasmettere tutta una serie di temi con un linguaggio comune ecco secondo me quello per quanto piccolo perché il teatro come dire è una cosa di elite però era veramente qualcosa che poteva andare bene per una persona di una certa età che toccava con mano poteva toccare con mano così come tutta una serie di scelte che magari fa inconsapevolmente invece hanno tutta una serie di problematiche quindi dobbiamo pensare a dei linguaggi inclusivi ma inclusivi per tutti appunto parliamo sempre dei giovani e non parliamo mai delle c'è anche la comunicazione della scienza della tecnologia così le persone di una certa età sono completamente escluse mi chiedevo quanto invece si parlino i mondi del del marketing online della delle scienze della comunicazione che ormai riempiono le stelle universitarie e invece il mondo dell'etica tecnologica cioè il rapporto che io ho una sorella che studia comunicazione una sorella che studia comunicazione e pubblicità e notavo cioè nel corso nel corso dei mesi che abbiamo passato nel lockdown notavo quanto loro hanno dei corsi molto diversi tra di loro e spessissimamente contraddittori continuamente contraddittori per cui hanno dei corsi in cui si cerca di sensibilizzare la responsabilità e ad un minimo di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti e il corso di marketing digitale in cui invece gli piombano addosso i casi di facebook di google di amazon come se fossero i casi limite delle possibilità umane e quindi mi chiedevo poi chi queste cose le studia quanto ne esce inconsapevolmente confuso e se questi due mondi effettivamente ad un certo punto trovano un punto in cui devono parlarsi perché mi sembra molto spesso di no cioè che restino delle isolotte abbastanza a parte con quest'etica del profitto assolutamente smisurata che hanno la possibilità di dimenticarsi dell'etica e poi volevo chiedere se i limiti della tecnologia e i limiti dell'etica siano effettivamente le cose che si influenzino cioè anche nel mondo utopico della piena responsabilità della piena consapevolezza se debba o meno esistere secondo lei un limite etico all'avanzamento della tecnologia allora dipende dipende da che sviluppo da che cosa dal contesto dalla situazione dipende dalle scelte e le scelte le dobbiamo fare di volta in volta quindi io penso che il dovere sia mettere sul piatto mettere sul tavolo questi problemi e poi come dire non c'è una risposta universale anche perché appunto universali in senso forte anche parlare di valori universali in senso forte è forse troppo forte se pensiamo alla storia e quanto siano cambiati anche i valori nella storia per cui penso che la cosa importante sia intanto porre la domanda e discuterla e poi certamente si fanno delle scelte di caso in caso in situazione in situazione e si considerano come dire i problemi specifici quindi a questa domanda risponderei così sulla prima domanda non so veramente perché appunto è un mondo che non conosco e quindi mi rendo conto che poi così è difficile anche trovare una conciliazione oggi ero a un seminario di una mia collega che è venuta qua al Politecnico di Milano con una borsa Marie Curie le Marie Curie sono queste borse che diciamo vengono date a livello europeo ai ricercatori più giovani più bravi appunto in Europa che affrontano dei temi di frontiera e lei è venuta al Politecnico di Milano lei è una persona che ha un dottorato in letteratura contemporanea ed è venuta al Politecnico di Milano al Dipartimento di Architetture e Studi Urbani a studiare come per esempio viene diciamo rappresentata nella letteratura di fiction la crisi la cosiddetta crisi del sonno e la cosiddetta crisi del sonno attraverso appunto per esempio le app di tracciamento del sonno i wearables che vengono utilizzati per il tracciamento del sonno e secondo me questa è proprio quella che intendo come prospettiva diversa per guardare un problema in maniera molto molto lontana da quello che di solito si discute qua al Politecnico e però la cosa interessantissima di questo seminario a parte farci vedere così come viene narrata questa crisi o supposta crisi del sonno non dormiamo abbastanza e poi quindi non dormiamo abbastanza e quindi non siamo abbastanza efficienti dormire è importante perché ci rende più efficienti e poi lei ha detto una cosa e possiamo essere d'accordo o non d'accordo e lei ha detto però tutti questi problemi appunto non sono problemi della tecnologia non sono problemi di come viene narrato sono problemi del capitalismo e io sono anticapitalista e quindi penso che sia importante come dire riconoscere allora al di là della posizione però questo secondo me di nuovo è un bel esempio di come il problema sia politico quindi se nel marketing e poi sapete bene non solo il digital marketing oggi si parla addirittura di neuromarketing no? Cioè se il problema non è del marketing in sé degli strumenti del marketing il problema è del marketing nel contesto nel mondo in cui viviamo quindi è vero che adesso non voglio fare discorsi prima lui citava Shoshana Zuboff che è stata definita questo libro il capitalismo della sorveglianza che è un librone è stata definita il Karl Marx del ventunesimo secolo cioè il capitale del ventunesimo secolo obiettivamente è un po' lontano dal capitale di Marx nel senso che poi il capitale di Marx c'è un libro estremamente filosofico il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff è leggermente filosofico in alcune parti però però insomma è interessante secondo me di nuovo per quello che vi dicevo all'inizio è una questione anche principalmente politica perché ci porta anche così interrogarci su le strutture politiche entro le quali viviamo anche prima parlavo del concetto stesso di democrazia legato alla privacy e quindi non è solo un problema in sé della tecnologia o dello specifico contesto è veramente un problema più ampio il che rende tutto più interessante e più difficile c'è una domanda qua ok vado c'è prima poi farei l'ultime due e poi concluderei che dobbiamo abbandonarla io voglio uscire dall'aspetto etico e fare una domanda più tecnica lei ha detto che in questo momento l'intelligenza artificiale è ristretta a piccoli problemi specifici algoritmi ma in un futuro l'intelligenza artificiale potrebbe emulare la mente umana acquisendo quella flessibilità ed elisticità tipica dell'uomo oppure solo fantascienza oppure solo una fantascienza è solo qualcosa di realistico no beh diciamo su certe cose assolutamente è molto meglio di noi e fa come dire ma non solo in termini di potenza di calcolo tante cose senza dubbio in tante cose ci supera di gran lunga poi dopo se vogliamo addentrarci in una discussione più filosofica così io allora penso che abbiamo primo abbiamo dei problemi più urgenti e quindi forse è meglio che ci concentriamo su questi ma secondo io penso che forse se vogliamo avere delle macchine come noi dobbiamo anche pensare vabbè allora da un lato possiamo dire ok ma la coscienza ma che cos'è quindi dovremmo avere delle macchine con la coscienza cosa significa eccetera allo stato delle cose io penso che questo non sia possibile anche perché non sappiamo neanche bene che cosa sia la coscienza ma poi penso che allora forse vogliamo delle macchine che sbagliano come noi che fanno errori che non sono razionali in senso perfetto come le abbiamo costruite che non che imparano ma insomma noi anche un sacco di volte non impariamo dagli errori alcune volte impariamo alcune volte no quindi cioè di nuovo questo diventa un po' così un problema di scelta di progettazione di come le vogliamo in fondo quando sono state create se penso appunto a questo ingegnere che si chiamava Charles Babbage nell'Inghilterra dell'Ottocento in piena rivoluzione industriale che diceva vabbè ma io cioè la voglio perché così i calcoli li facciamo velocemente bene non dobbiamo pagare le persone le macchine non fanno errori non si annoiano non si stancano e questo è rimasto cioè è un po' lo sfondo ancora nel quale ragioniamo però questo significa sì certe cose le fanno benissimo però forse su certe cose non sono come noi perché invece noi ci stanchiamo facciamo un sacco di errori ci annoiamo abbiamo bisogno di ricontrollare le cose magari più volte però in fondo è una domanda filosofica perché poi ci chiede va bene quindi che cosa vuol dire essere un essere umano in fondo qual è l'essenza dell'essere umano e però di nuovo secondo me è una questione di scelte e noi dobbiamo avere in mente che le scelte devono rimanere saldamente nelle nostre mani io mi ricollego a pensare alla fantascienza in questo senso magari è una domanda un po' scenica però siamo abituati a vedere appunto una convivenza tra robot droidi vari e uno scenario ricorrente è il fatto che magari possano scoperchiare la società il quanto magari più potenti di noi vedi le macchine che conquistano il mondo chiaro che non mi aspetto che da un giorno all'altro il mio microonde mi venga a ramazzare durante la notte però quant'è una cosa che effettivamente dobbiamo quali sono i veri pericoli di esagerare in un senso concreto nel senso mi vengono in mente il fatto che le intelligenze artificiali possano disabituarci a fare determinate cose da soli penso magari quando sono down i server di Instagram io improvvisamente non posso sentire più i miei amici o il fatto che non so fare il W2 senza una calcolatrice nel 2022 o nel senso è tutto appunto fantascienza nel senso non arriveranno mai a farci male diciamo non so se ah ok farci male nel senso di Asimov le macchine che si ribellano secondo me già ci stanno facendo parecchio male poi nel senso delle macchine che si ribellano eccetera sinceramente non lo so sinceramente questo non lo so però penso che anche questo dipende da noi e dobbiamo essere sempre come dire indirizzare no e essere consapevoli che insomma nel momento in cui già adesso abbiamo così tanto tanto impatto negativo in molti contesti dobbiamo cercare di sterzare da questo impatto negativo che poi così come la fantascienza ce l'ha dipinte il robot che così impara si autosviluppa diventa più intelligente di noi e poi ci rende schiavi ma siamo già un po' schiavi quindi è solo una forma un po' diversa è quello che dicevo all'inizio cioè rimmaginiamoci diversamente cioè ripensiamo all'immaginario cioè era pensato così il robot come umanoide che sta lì e fa è un po' diverso però insomma questa in parte alcune cose sono già molto concrete lo sapete è stato scritto questo libro bellissimo gli schiavi dei click cioè tutti quegli esseri umani che appunto in paesi in via di sviluppo annotano i dati che servono poi per diciamo far funzionare gli algoritmi di intelligenza artificiale ha scritto questo sociologo italiano che si chiama Antonio Casilli che lavora a Parigi e che come dire ha messo in luce tutto il lavoro umano sommerso quindi noi siamo già diventati gli schiavi degli algoritmi che per funzionare hanno bisogno degli esseri umani che annotano questi dati manualmente e che fanno questo lavoro sostanzialmente non riconosciuto scuro in paesi in via di sviluppo quindi vengono pagati pochissimo e che costituiscono una forza lavoro essenziale perché come dire questa narrazione dell'intelligenza artificiale della potenza e dell'indipendenza delle macchine funzioni no e vi consiglio un altro libro bellissimo che è appena uscito cioè sempre fine 2021 tradotto malissimo in italiano né intelligenti né artificiali però è bello perché lì veramente ricostruisce tante cose che di solito non si dicono è una studiosa americana che si chiama cioè australiana che lavora negli Stati Uniti si chiama Kate Crawford ma in italiano è né intelligenti né artificiali e secondo me è bello perché dà un'immagine dell'intelligenza artificiale che non è proprio solo quella tradizionale ma è più articolata io vorrei farò una domanda ricordo sempre questi argomenti e voglio prendere un punto di riferimento a un film che si chiama Her lei in cui c'è questa Alexa 2.0 praticamente che impara da quest'uomo tanto che vanno a crearsi delle discussioni e tutto e lui si innamora di lei io mi chiedo comunque questa persona personalmente non credo sia troppo assurda alla fine potrebbe anche capitare in un momento cioè in futuro vicino e io ora le voglio chiedere a lei lei cosa ne pensa dell'amore tra uomo e intelligenza artificiale potrebbe essere una cosa fattibile o non lo so una sua considerazione che ne sa molto più di me su questo argomento no sinceramente non lo so a parte che dovremmo dire ma appunto che cos'è amore c'è c'è tanta letteratura anche per esempio su per esempio l'amicizia il concetto di amicizia quanto è per esempio l'amicizia su facebook la letteratura accademica sull'amicizia su facebook può essere cioè è un tipo diverso di amicizia rispetto al concetto tradizionale dell'amicizia eccetera perché i grandi filosofi hanno anche parlato dell'amicizia e suppongo che ci sia anche come dire nel caso dell'amore però personalmente insomma almeno che come dire ci siano delle entità dotate di libero arbitrio se pensiamo che esista quindi di essere liberi di avere un qualche grado di autonomia di avere come dire capacità di decisione morale secondo me sì cioè questo è un po' il presupposto perché secondo me le amicizie l'amore anche delle relazioni di tipo umano poi possiamo come dire rivedere tutto non sono non voglio dire che dobbiamo rimanere sempre alle stesse idee però dobbiamo rivederle con consapevolezza di dire ok siamo in un momento in cui questo ci porta a ripensare le nostre idee le ripensiamo completamente le ripensiamo in parte non le ripensiamo ok allora secondo me rimane ancora bella però mi rendo conto che è vaga quella che è detta Marco Somalvico parafrasando un po' i fondatori dell'intelligenza artificiale che diceva l'intelligenza artificiale appunto sono tutti quei programmi e quegli hardware che apparentemente come dire svolgono delle prestazioni che sembrerebbero essere di esclusiva pertinenza degli esseri umani e che in realtà man mano diventano pertinenza anche delle macchine e secondo me è una bella definizione perché apparentemente ci dà l'idea che così è qualcosa che possiamo fare noi solo esseri umani invece ci rendiamo conto che man mano questo confine delle cose che prima eravamo in grado di fare solo noi cambia e quindi dà l'idea del fatto che è una disciplina in continua evoluzione con dei confini che cambiano continuamente e questo rende se vogliamo affascinante ma anche difficile grazie a voi grazie mille grazie bellissimo grazie a voi sono stata molto veramente contenta prima lo dicevo così in fondo l'idea che l'università possa essere così anche un luogo in cui si parla di questi temi al di fuori delle lezioni al di fuori per me è veramente così rinfrescante direi grazie quindi dell'invito grazie a lei di nuovo e ne approfitto per ricordare tutti che il 17 18 19 maggio si vota per il rinnovo del CNSU che è il consiglio nazionale degli studenti universitari è una buona occasione per far valere la propria opinione perché è un organo di rappresentanza che lavora proprio strettamente insieme al ministero e sulla nostra pagina trovate chi siamo che è la nostra candidata e l'una è la ragazza all'infondo e nulla vi aspettiamo e soprattutto votate grazie mille e anche a voi per la partecipazione molto attiva ricordo che a un ciclo di conferenze ci sono altri tre appuntamenti il prossimo è il 3 maggio e ha il titolo dalla scienza moderna alla tecnoscienza contemporanea e sarà ospite con noi Fabio Grigenti grazie a tutti grazie a tutti